benvenuti a tutti sul mio canale io sono nancy e oggi parliamo di aurora ramazzotti nuda sotto la doccia in giardino scatena i eteri sui social scatta la polemica la figlia di eros e michelle ha postato alcuni scatti delle sue vacanze con goffredo il piccolo cesare tra questi ne spunta una anche in cui l'influencer appare completamente senza veli la foto non è piaciuta a molti che hanno subito commentato con frasi tipo questione di stile di eleganza che senso ha questa foto c'è bisogno di mostrarsi nuda sotto accusa soprattutto il suo nuovo ruolo di mamma che secondo gli eter non si addisce a scatti come quello ma c'è anche chi ha fatto del vero e proprio body shaming criticando il fisico di aurora pochi mesi dal parto e sottolineandone delle imperfezioni tantissimi naturalmente anche i messaggi di solidarietà con l'influencer che dal canto suo ha preferito rispondere con ironia nelle sue storie instagram i 0,3 secondi di stallo dedicati all'inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazioni in determinati soggetti poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una minchia ha scritto la ramazzotti in una storia citando uno dei messaggi critici che recitava sei totalmente libera non tutto ciò che è libero e lecito bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite detto questo aurora spero di aver stuzzicato la tua mente per favore pensaci sei molto carina ma a volte ti perdi in un bicchier d'acqua aurora poi postato la foto di un bicchier d'acqua con il suo viso dentro successivamente lo scatto di mamma nudo in mezzo al mare scrivendo mi segnalano un mamma che si perde in molto più di un bicchiere d'acqua e voi cosa ne pensate riguardo scrivetemelo giù nei commenti se il video vi è piaciuto lasciatemi un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le notifiche dei prossimi video